Stiamo ancora lottando contro gli incivili, affrontando le vecchie criticità e le nuove problematiche. Ai microfoni di TV Siti, l'assessore alla nettezza urbana Cinzia Mirabella fa il punto della situazione in città dopo oltre un mese dall'insediamento della nuova ditta Velia. Sicuramente siamo sul piede di guerra ancora perché c'è ancora una parte di cittadini che non vuole capire che bisogna fare una raccolta differenziata. Quindi stiamo ancora lottando contro gli incivili che purtroppo sistematicamente continuano a sversare rifiuti anche in pieno giorno, non rispettando gli orari, non rispettando i conferimenti. E quindi l'attuale ditta, a cui comunque devo riconoscere un notevole impegno, sta continuamente ricorrendo le emergenze. Numerosi cittadini ci chiedono come mai ancora la strada non è spazzata perché purtroppo ovviamente per fare servizi extra, quindi per togliere il cumulo di ingombranti o per togliere il cumulo di materiale non differenziato, ovviamente ha un costo che noi cerchiamo di non gravare ulteriormente sulla tassatari e questo comporta di dover compensare, bilanciare, di fare un servizio anziché un altro. Nelle ultime settimane è stata fatta un'operazione massiccia a largo raggio rispetto a un mese fa, la città è sicuramente più pulita anche se restano criticità, soprattutto dove? Allora, la criticità maggiore è sempre la periferia perché ovviamente è meno controllata, veniamo continuamente contattati per richieste di telecamere. Ci sono ancora strade sporche, quotidianamente riceviamo numerose segnalazioni di cittadini a cui far fronte i problemi principali si registrano in periferia, ribadisce l'assessore. Puntualmente voi vi interfacciate con i responsabili della ditta proprio per far fronte ai problemi vecchi e diciamo anche ai nuovi? Sì, noi stiamo ancora risolvendo quelli che sono i problemi vecchi perché ci sono zone della città che ancora non hanno questa educazione al rispetto dell'ambiente, quindi abbiamo ancora continuamente, quotidianamente zone come Via 20 Settembre dove purtroppo non si svolge il porta a porta, abbiamo ancora piccole discariche, potrei definirli, piccoli cumuli che rincorriamo, abbiamo ancora gli ingombranti che continuano a essere presenti in alcune strade cittadine nonostante la presenza di telecamere che ruotano su tutto il territorio di Torre del Greco. Più volte la gente dice dovete controllare, dovete controllare, ma è impensabile che si possano trovare ad ogni curva di periferia o anche in pieno centro, un vigile preposto che sta lì soltanto al controllo dell'ANU, è proprio numericamente impossibile. Anche alla nostra redazione arrivano numerose segnalazioni soprattutto da cittadini in zone dove i rifiuti non vengono proprio raccolti. Sì, abbiamo avuto anche noi delle segnalazioni e spesso è anche un problema di percorrenza delle strade, nel senso, mi spiego, ci sono alcune strade che conferiscono i rifiuti al di fuori del viale. Questo a volte perché il mezzo che deve entrare all'interno non riesce a, riesce anche a entrare, ma non riesce ovviamente a svoltare se non di retromarcia. Quindi spesso abbiamo avuto segnalazioni di questo tipo. Stiamo vedendo con la ditta di trovare soluzioni per mezzi più piccoli che consentono anche traverse pubbliche, traverse ovviamente di percorrenza pubblica dove è possibile entrare per fornire questo servizio anche a queste abitazioni. Per questo motivo ci sono anche i cittadini virtuosi che tuttavia sono stati multati. Sì, purtroppo succede anche questo perché magari capita di non rispettare l'orario, soprattutto in inverno ci è accaduto, perché cittadini che rispettavano il conferimento però magari non rispettavano l'ora abbiamo anche avuto modo di visionare alcune multe che riguardavano magari le otto e mezza di sera perché, ripeto, l'orario è sempre dopo le 21. Parliamo invece delle novità in arrivo. È prevista l'installazione di distributori automatici di kit per la raccolta differenziata. Dove e quando? Dobbiamo dare il tempo alla ditta ovviamente di predisporre queste due strutture che verranno ubicate. Una nel complesso dei Molini Marzoli, una nel complesso della Salle. Hanno bisogno ovviamente della sorveglianza, quindi non possono essere lasciate in strade dove non è presente la nostra sorveglianza comunale. Quindi saranno ubicate nei soliti due punti storici e saranno attivate con il codice fiscale. È ancora in una fase di costruzione, però è una fase che comunque avverrà a stretto giro. Quindi tutte le novità invito i cittadini oltre a seguirci sul sito istituzionale ma anche TV City che è un'ottima pubblicità per noi e ovviamente amministrazione nel fornire le notizie utili. Nel frattempo il cittadino dovrà risolvere privatamente, visto che è da gennaio che non si provvede alla distribuzione dei kit? Sì, purtroppo c'è ancora un po' di pazienza da dover avere. Anzi colgo l'occasione per ribadire che le buste devono essere trasparenti, devono essere ovviamente visibili per l'operatore che le viene a prelevare, che all'interno ci sia il contenuto. Quindi in questo periodo vi invito a usare sempre buste di plastica, sempre quelle lì nel rispetto dell'ambiente, che ma soprattutto siano trasparenti e si possa vedere il contenuto. Prosegue anche il diserbo dal centro alla periferia per sopperire alle condizioni indecorose e di degrado dei mesi scorsi. Stiamo intervenendo sia al centro sia in periferia. Non riusciamo ovviamente ad essere presenti ovunque, quindi le strade vengono affrontate di volta in volta. Stiamo adesso in questi giorni finendo via Montedoro, inizieremo sulla Cappella, abbiamo fatto via Cesare Battisti, abbiamo fatto Parco Loffredo. C'è un calendario che stiamo affrontando sia con la ditta Velia e sia con l'ufficio parchi e giardini. Quindi stiamo lavorando contemporaneamente con due uffici che ci stanno dando ovviamente una forte mano. Nessuna strada verrà trascurata, nessuna strada verrà dimenticata. Abbiamo soltanto necessità di tempo. Abbiamo soltanto necessità di tempo.